a cui lui si appoggiava perché aveva un problema all'anca negli ultimi anni e la sua compagna però si vedeva povera aveva questi occhiali da misto per vedere meglio con le lenti un po' scure si usava in quegli anni come a modo di doppio metro no viene da rito perché ero con il cielo che mi dava non so e la metafora qua è montata quando lei poi se ne andò più gli scrisse questa poesia d'amore è una delle più straordinarie e questa me l'ha insegnata Gasman, me l'ha fatto scoprire Vittorio Gasman e il papà di Alessandro, uno dei più grandi attori di teatro della nostra storia e devo dire che mia madre appunto ogni tanto mi chiamava per te la figlia di dire mi reciti la poesia di Eugenio Montale, le scale, usa la metafora delle scale non dice mai la parola amore in questa poesia in questi pochi versi voi sentirete solo parlare di milioni di scale e di una che guida a mezzo ciecate il suo amore della vita che soppica così mai e adesso io mi medesico nella voce di Montale a questo grande poeta e dico ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino anche così è stato breve il nostro lungo viaggio e il mio dura tuttora da più mi occorrono le coincidenze le prenotazioni le trappole gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che si vede ho sceso milioni di scale dandoti il braccio e non già perché con quattro occhi forse si vede di più con te ne ho sceso cara con te perché sapevo che di noi due le sole vere pupille sebbene tanto foscate erano le troie